Che cosa guidi? NACAR Si fa il giro del fabbricato e si torna indietro Chi ci sta? Via! Usiamo la testa Ci servirà una crew più fica Ciccionero, Limoncello E l'attricetta che parla poco ma l'ha da tanto Cavolo, ma come fai? Che? Tu li pensi e quelli appaiono all'istante Mr. Johnson, ho i fascicoli che ha chiesto Sono troppo duri per pulirmici La mia maglietta è abbastanza aderente Come? I miei capezzoni li metti Ci serve un solo autista Provino a eliminazione Al mio tre Ciccionero Mettetevi un vigilante E matate il pelato Ha più culo che anima Girali a destra Tanculo Assoraba Non è la macchina che guida Lei non si fida di chi ha la guida non guida Sgrida chi non guida Non ho capito Aggiornamento di cast oggi Perché Asa Butterfield è entrato a far parte Come protagonista del cast di Out of This World Il film di fantascienza per famiglia Diretto da Peter Chelsom Noto per film come Show We Dance O Anna Montana The Movie Il film racconta la storia di un ragazzo Cresciuto su Marte da un team di scienziati Tornato sulla terra da adolescente Il ragazzo viaggia attraverso gli Stati Uniti Con una giovane donna Allo scopo di trovare il suo padre biologico Si preannuncia un film interessante Per oggi è tutto Al prossimo video